Per comprendere tutte le fasi del processo di approvvigionamento energetico da biomassa, il funzionamento degli impianti, nonché le ricadute territoriali e socio-economiche delle centrali. E questo è l'obiettivo principale di Eco Open Days, l'iniziativa promossa dall'Associazione Energia da Biomasse Solide e da Affari Ambiente, che prevede una serie di visite guidate agli impianti. Il primo appuntamento è stato quello del 4 maggio presso l'impianto a Biomasse di Olevano di Lomellina, nel Pavese. Un modo di produrre energia, quello da Biomasse, che secondo Vincenzo Pepe, presidente di Fare Ambiente, è fortemente improntato alla sostenibilità ambientale. La tecnica di produzione di energia da Biomasse è certamente una produzione rinnovabile, ma anche quella più vicina all'ambiente, perché significa utilizzare gli scarti in agricoltura, utilizzare il cippato, utilizzare il sottobosco per produrre energia. Un bene all'ambiente, perché utilizzare questa sorta di rifiuto significa evitare il rischio idrogeologico, evitare incendi, ma produrre energia e creare anche occupazione. Questa è la vera energia rinnovabile, sostenibile, che noi dobbiamo promuovere e su cui dobbiamo sensibilizzare il Paese. Ma cosa pensano i visitatori di questa iniziativa, che ha coinvolto insieme ai cittadini interessati anche studenti della Facoltà di Scienze Politiche e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pavia? È stata una visita molto interessante, soprattutto perché chiaramente conoscevo poco, adesso conosco molto di più rispetto a quello che sapevo. Soprattutto ho capito che è importante perché viene fornita l'energia per 40.000 famiglie, quindi praticamente una città medio-grande, il che vuol dire che è una grande risorsa. Sicuramente sono cose che non si conoscono, non si conoscono neanche a livello universitario, sì, vengono sviluppate in modo chiaro e elaborato e grazie a questa visita comunque sicuramente sarà tutto molto più chiaro. L'importanza di iniziative di questo tipo è proprio quella di consentire a chi normalmente, perché non lo fa per lavoro o perché non è per interesse professionale o di studio, di avere accesso a queste strutture, di poter capire dall'interno, quindi visitandola, quali sono le criticità e quali sono soprattutto il valore aggiunto e le potenzialità di questo sistema. Quindi benvenga che ci siano anche in futuro ulteriori occasioni di poter rendere accessibile al pubblico e all'opinione pubblica strutture di questo tipo. La centrale a biomassa di Olevano di Lomellina si caratterizza, come ha spiegato Bruno Covilli Fagioli, legale rappresentante di Biolevano, per essere un impianto a filiera corta, con ricadute positive per il territorio. Viene infatti alimentata con legno di pioppo coltivato privilegiando la produzione agricola entro una distanza massima di 70 km di raggio dal sito. Si è partiti dalla disponibilità di questo materiale per costruire attorno un sistema di raccolta, di trattamento e poi di utilizzo di questo stesso materiale. Questo fa sì che l'impianto deve essere visto nell'ambito ideale di una filiera circolare che chiude il cerchio appunto dalla produzione fino all'utilizzo del materiale per la produzione di un bene che è comune a tutti, molte volte non ce ne rendiamo nemmeno conto di quanto sia necessario, che è quello dell'energia elettrica che deve essere distribuita e resa disponibile a tutte le persone, a tutti i cittadini.